Dispiace constatare che il presidente del Consorzio Industriale Ferroni risponda in politichese ad una nostra proposta che voleva essere solo costruttiva, di carattere generale, di innovativa, per sviluppare nuove imprese e creare nuova occupazione. Così Alberto Palucci della UIL di Rieti risponde al presidente del Consorzio Industriale Andrea Ferroni, che ha tacciato come privo di fondamento il grido di allarme del segretario provinciale della UIL. Per rilanciare l'economia locale bisogna creare nuovi posti, ha dichiarato Palucci, nuovi posti di lavoro e questi non si creano per legge ma con l'impegno e le idee innovative della classe politica. Purtroppo invece constatiamo tante chiacchiere e pochi fatti, ad esempio il Consorzio Industriale di Rieti Città Ducale persevera con una strategia che sta facendo scappare le imprese e mi riferisco alla gestione delle aree dei Capannoni Travazze e Santa Rufina, per non parlare di Borgorose e Passo Corese. Qui gli immobili sono quasi tutti vuoti, abbandonati e con un degrado pericoloso. E allora ritengo che bisogna studiare prezzi di locazione calmierati, avvantaggiati, defiscalizzati, per far insediare nuove aziende. I comuni di Rieti, Città Ducale, Fara in Sabina e la Regione Lazio devono approntare un piano aggressivo con il Consorzio di Rieti che faccia diventare questi territori più attraenti per l'imprenditore che vuole investire. E invece mi risulta che il CDA e il management del Consorzio, tra l'altro appena rinnovato, abbia alzato i prezzi di locazione invece di abbassarli. Oggi un'impresa in crisi paga 4-5 euro e se chiede un locale per allargarsi preferisce spostarsi al nucleo di Terni-Narni o nell'area della vicina Guidonia o dopo Fiano Romano perché le stendono tappeti rossi con incentivi e la formula zero locazione per il primo anno.